Per la seconda volta Pio XII ha indetto il concistoro segreto per la nomina di nuovi cardinali. Sabato 29 novembre 1952 la Santa Sede diramò la notizia della nomina di 24 principi della Chiesa, nomina che doveva riportare al pieno, cioè ai 70 stabiliti da Sisto V, il Sacro Collegio. 24 vescovi sono stati chiamati a Roma per ricevere dal sommo pontefice la rossa porcora che è simbolo del martirio. Pochi gli assenti, tra questi Monsignor Stepinac e Monsignor Viscinski, arcivescovi di Zagabria e di Varsavia. E la casa di Pietro, che è oggi anche la casa di Pio, è stata ancora una volta il centro dell'attenzione del mondo intero. Nei giorni precedenti, fino all'immediata vigilia del 12 gennaio, i porporati anziani e quelli di nuova nomina sono affluiti a Roma, in treno e in aereo. E Giampino ha visto scendere il patriarca degli armeni Gregorio Agagianian, insignito della porpora nel 1946. E a tarda sera, Monsignor McIntyre, arcivescovo di Los Angeles, uno dei nuovi prescelti dal pontefice. La mattina del 12 si sono svolte contemporaneamente le varie cerimonie. Nel collegio di San Luigi dei Francesi, il messo ha recato a Monsignor Giorgio Maria Grant, arcivescovo di Le Mans, e a Monsignor Maurizio Feltin, arcivescovo di Parigi, i biglietti di nomina. I due neocardinali, presente l'ambasciatore di Francia e tutta la piccola corte, ricevuti i biglietti, li hanno porti ai rispettivi segretari che ne hanno dato lettura. Nello stesso momento, al collegio di propaganda fide, eguale cerimonia veniva compiuta per Monsignor Grafias, arcivescovo di Bombay, chiamato dalla lontana India. Eguale cerimonia al collegio americano per Monsignor McIntyre, presente l'ambasciatore Bancar, tra i primi a felicitarsi, l'eminentissimo arcivescovo di New York, Francesco Spelma. Nello stesso tempo, nei sacri palazzi andirivieni di macchine, il frettoloso salire di dignitari, di nobili in cappa, di prelati, l'affluire di invitati preludevano l'arrivo dei tredici porporati di Curria e di altri cardinali italiani ed esteri. Essi giungevano in Vaticano per il concistoro segreto. Vestiti di lana rossa con la cappa violacea ricoperta d'ermellino, ad eccezione di quelli appartenenti ad ordini religiosi con le vesti del colore della propria comunità, essi scendevano nel cortile di San Damaso, salivano fino alle logge, e mentre i gendarmi si irrigidivano sull'attenti al loro passaggio, entravano nella sala concistoriale, andavano per inchinarsi reverentemente innanzi al sommo pontefice che, letti i nomi dei neocardinali, avrebbe loro rivolto la domanda rituale. Quid vobis biletur? La pesante porta si è chiusa e il pontefice, dopo che l'uffiziale concistoriale aveva pronunciato l'extra omnes, ha letto la sua allocuzione. Mercoledì 14 gennaio, un'altra cerimonia per la prima volta in Italia si è svolta in Quirinale, l'imposizione della berretta cardinalizia al nunzio apostolico Monsignor Borgongini Duca da parte del Presidente della Repubblica. Presenti tutti gli ambasciatori, l'Onorevole De Gaspei, altri membri del governo, nel grande salone ad igua alla Cappella Paolina, il capo dello Stato ha ricevuto, facendolo sedere alla sua destra, il Cardinal Micara, vicario di Roma. Monsignor Borgongini Duca è passato per l'ampio scalone scortato da doppieri accesi. Giunge l'abblegato pontificio Monsignor Cagna con il biglietto di nomina, seguito dalla Guardia Nobile Conte Castelvetri con la berretta. Entra al fine il nunzio. Il Presidente lo riceve. E quando il neocardinale si inchina, egli impone la berretta rossa sul suo capo. Poco dopo, il neocardinale, che è vestito di viola, esce dalla sala. Vi rientra tre minuti più tardi, coperto di rosso, il colore del nuovo titolo. Il corporato pronuncia un breve indirizzo a cui risponde il Presidente Einaudi. La cerimonia è conclusa. Infine, l'imponente rito in San Pietro, il concistoro pubblico fissato per giovedì 15. La basilica vaticana è sfolgorante di luci, gremita in ogni suo angolo. Dietro il trono è retto adossato all'altare della cattedra un grande arazzo raffigurante la giustizia. Echeggiano le note solenni della Marcia del Longhi. Il Pontefice, seduto sulla sedia gestatoria, con la mitra in capo, scortato dai flabelli, avanza sotto la navata centrale. Giunto innanzi alla cattedra, il Papa scende dalla sedia gestatoria. e sale i gradini del trono. Non appena vi ha preso posto, il Pontefice riceve l'ubbidienza. I cardinali, l'uno dopo l'altro, si avvicinano, salgono i gradini dell'altare papale e ricevono l'amplesso del Pontefice. Ed ecco avanzare uno ad uno in un solenne e maestoso corteo i novelli principi della Chiesa che nella cappella di Santa Petronilla avevano prestato il prescritto giuramento dinanzi ai cardinali capi di ordine e al camerlengo. Dopo il bacio al piede e all'anello, Pio XII impone a ciascuno il galero, il cappello cardinalizio che i porporati non porteranno più. Esso sarà deposto sul loro letto di morte. Per ciascuno il Papa ripete la frase rituale in cui si loda Dio e si chiede ai cardinali in trepidezza usque ad sanguinis effusione. Dopo la benedizione, il Pontefice risale sulla sedia gestatoria e tra le acclamazioni dei fedeli rientra nei propri appartamenti. Si chiude così il concistoro pubblico che ha solennemente dato alla Chiesa di Pietro 24 nuovi cardinali.